N.O.I.Factory Ciao a tutti ragazzi, sono io, SampleK300 e bentornati in questo nuovissimo video di Fortnite Ragazzi, oggi andremo a parlare di alcuni leaks, quindi i soliti leaks che porto qui sul canale Ma andremo a parlare anche di una cosa interessante Ovviamente ieri vi ho portato un video abbastanza lungo e corposo Forse uno dei video più lunghi che io abbia mai fatto nel canale Riguardo alcune critiche che ho fatto al capitolo 2 Cose che non mi sono piaciute, ovviamente molte cose che non mi sono piaciute rispetto al capitolo 1 Ovviamente ho messo a punto molte cose, ho specificato tante cose all'interno di quel video Quindi vi invito, se lo volete vedere, a vederlo intero Lo so che è una bella balla, però se ci tenete a vederlo e ci tenete la mia opinione Ovviamente dovete guardarlo tutto, perché dico dei punti importanti, dico delle cose importanti in quel video Quindi diciamo che, insomma, si deve ascoltare tutto Ecco, dico solo questo Come ogni cosa, tra l'altro non si può dare un giudizio sui primi 10 secondi di video Comunque, oggi non stiamo a parlare di questo Andiamo a parlare di un po' di roba Iniziate col dire che già da ieri o dall'altro ieri è disponibile la nuova fase della regina dei cubi Molto molto interessante, vedete adesso ci sono tipo delle piccole casette Sembrano così dei gazebbi, così del cubo Adesso possiamo vedere il... Scusate che c'avevo il telefono Perdonate, perdonate Ok, stavo dicendo Abbiamo adesso il cubo che è più esposto, il cubo dorato rispetto a prima che era praticamente un po' più coperto Adesso è un po' più esposto E tra l'altro apparentemente la bolla della regina sembrerebbe essere un po' più alta Vedete, in questa cosa è un po' più glitchata Ma in gioco dovrebbe essere un po' più alta Molto molto interessante In effetti sembra appunto Prevedere, cominciare a prevedere la forma di una piramide Vedete che già questa colonna col cubo dorato al centro Sta cominciando ad alzarsi Chissà se non il resto appunto della città Magari comincia ben bene a muoversi Ad assumere più una forma a piramide Come un pochettino si sta dicendo sempre di più in giro Ovviamente andiamo anche a parlare dei test della patch Perché dopo appunto i test della 19.00 Sono partiti ufficialmente i test della 19.01 Ovviamente vi ricordo che non sappiamo se la versione del gioco 19.00 Sia la stagione 9 capitolo 2 Oppure potrebbe essere il capitolo 3 stagione 1 Ovviamente ancora non lo sappiamo come ben sapete Non sappiamo niente di niente Abbiamo sopposto mille teorie Comunque per dirvi che già Epic Games ha testato la 19.00 È già arrivata alla seconda, alla prima pancia Anche si può dire della stagione 19 Della versione 19 Ecco vi dico così così comprendete meglio Parlando appunto di stagione 9 capitolo 2 Barra stagione 1 capitolo 3 Parliamo di un video di Cypher PK Oppure in italiano proprio puro Cypher PK Appunto quello di compo in tutte e due le lingue Così magari cominciate a inquadrare Comunque uno streamer barra youtuber Abbastanza famoso Che ha molti contatti con Epic Games Che ha parlato, ha fatto sempre un altro video Vi ricordate il famoso video in cui aveva detto Che c'erano queste cose Per cui potrebbe esserci capitolo 3 Quindi ha menzionato le cose della regina Ha menzionato le cose della realtà Ha menzionato i bruti che l'aveva associato alla season 10 Quindi come season finale In questa stagione ci saranno pure i bruti Quindi aveva associato questo finale A questi oggetti estetici A questi anzi oggetti nel gameplay E insomma ho fatto un po' di speculazioni Tra l'altro ci ho fatto un video Sempre con queste immagini che poi è spopolata su Twitter Reddit Insomma un po' da ogni parte Fatto sta che Ha fatto un altro video Dove diceva che Noi possiamo vedere addirittura Pezzi della mappa del capitolo 3 Possiamo vederli all'interno di qualche trailer Molti sono andati a catturare Qualche momento, qualche immagine Dei vari trailer della stagione E sono andati a beccare molti leakers Barra appunto gente che fa teorie Molto spesso sono state anche attendibili E è andato a beccare il trailer del pass No del pass Il trailer della storia Della stagione 6 capitolo 2 Quello che poi ci introduceva All'evento iniziale Iniziale appunto Della stagione 6 capitolo 2 Dove appunto possiamo vedere Il punto 0 Oddio scusate Aspettate che qua Tolgo tutto Vi ricordate appunto Che noi abbiamo visto Questo pressettino di frame Attraverso un portale Questo era un portale della realtà Come sappiamo Appena appunto Ci è andato vicino il portale Abbiamo visto Questo nuovo panorama Praticamente tutto Il stile Nostro mondo Se ci fate caso Comunque tutto il stile Con le rocce fatte un po' meglio Vedete anche lo stile degli alberi È diverso rispetto al capitolo 2 Quindi Sembra tutto un altro pianeta E quindi molti dicono Che in effetti Questo potrebbe essere Una parte della mappa Del capitolo 3 Non lo so Questa cosa non mi sento molto Di dirvelo onestamente Non mi sento di dirvi Che potrebbe essere vero Io vi dico che Secondo me È una cavolata Ovviamente Non è stato confermato Da Cypher Cypher ha detto semplicemente Che parti della mappa Del capitolo 3 O comunque qualche spoiler Qualcosa Che ci portava Al capitolo 3 Si trovava in qualche trailer Del capitolo 2 Ma non ci ha detto Quale Quindi questa cosa Potrebbe anche essere sbagliata Per quello che ci riguarda Comunque Un altro argomento Che volevo affrontare con voi Che diciamo L'argomento è realmente Il principale del video Perché nel frattempo Volevo portare un po' Di leaks avanti Era Il mio pensiero Sul capitolo 3 Ovvero Voi mi state vedendo Molto propenso A questo capitolo 3 C'è molta gente Che non ci crede C'è gente invece Che ci crede molto Per via delle season Banali Lunghe Eccetera Eccetera Vi dico solo Che io non mi sono fatto Condizionare Da questa cosa Ovvero Non perché la season Fa schifo Quindi non voglio cercare Di avere Già il capitolo 3 No Semplicemente Ho preso dei punti E adesso Li argomenteremo insieme A parte i punti Che ho spiegato Nei video scorsi Che riprenderò Anche in questo video Prenderò anche Qualche altro nuovo punto Che ho scoperto Nell'arco di questi giorni Nel frattempo che raccoglievo Informazioni e news Attendibili Probabilmente Allora Andiamo a parlare Di un punto interessante Abbiamo parlato Del punto Della realtà Quindi abbiamo Parlato tantissimo Della distruzione Quindi la regina Che vuole sconfiggere Questa benedetta realtà Abbiamo anche detto Che probabilmente È la solita frase Da cattivo Però questa situazione Mi sembra abbastanza seria Per essere una stagione 8 Se fosse stato Tra la stagione 9 E la stagione 10 Diciamo che avrebbe avuto Molto più senso Invece in questo caso Stiamo avendo Questa situazione seria Solamente nella stagione 8 Il che Fa un po' pensare Perché una cosa così seria Dovrebbe accadere Soltanto ancora In questa parte della stagione Tra l'altro Se la stagione 9 E la stagione 10 Dovessero esserci Durerebbero circa Ma anche di un po' di più Due mesi a test Il che vale a dire Altri 4 mesi di stagione Prima di arrivare Al capitolo 3 Secondo me Allungare così tanto Il brodo Non credo che faccia Non lo so Poi ovviamente Se l'Epic Games Se la saprà gestire Questo è un altro discorso Ma al momento Mi sembra abbastanza improbabile Tutti questi mesi Prolungati di stagione Per portare avanti Una cosa così seria O perlomeno Riguardo a questo Vi voglio collegare Un'altra teoria Vi ricordate che Durante la stagione 7 Capitolo 2 Erano usciti Vari leaks Tra cui quello di Naruto Ha fatto scoppiare Un sacco di Critiche Robbe simili Tra cui appunto Anche tutti I clickbaitari Che facevano tutte Le robe su Naruto Cosa Lasciamo perdere Comunque Tra Naruto Il concerto di Ariana Grande E cose simili Questo Lakers famoso Che aveva detto queste cose Aveva anche detto Tra l'altro Che nella prossima stagione Il Cubo Kevin Sarebbe stato ovunque Nessuno l'aveva capito Perché Scusa Il Cubo Kevin Come può essere ovunque Mentre appunto Poi abbiamo scoperto Che c'erano i Cubi Dentro la nave madre Che poi sono caduti A causa dell'esplosione E sono caduti in mappa Ovviamente Una cosa che non ci aspettavamo Completamente Ma lui lo sapeva Ha azzeccato Il concetto di Anna Grande Ha azzeccato Ancora Ancora Naruto Non lo sappiamo Ha azzeccato Come cavolo si chiama Il Appunto i Cubi Aveva detto anche A degli animali cavalcabili Che arrivavano Poi i nuovi portali Stranger Things Che tra l'altro È appena uscito il trailer Stranger Things 4 Vi ricordo Già da un 2 3 giorni È uscito il trailer Forse un giorno Non mi ricordo Comunque È già uscito il trailer Quindi Già si può pensare A una piccola collaborazione Tra Fortnite Stranger Things Anche perché Durante la Stagione 9 Capitolo 1 C'è stata una collaborazione Con Stranger Things Quindi Non sarebbe stupido Pensare che ce ne sia Una seconda Diciamo Quindi questo È un altro punto A favore Ma lui tra l'altro Ha parlato Anche molto E in maniera Secondo me Troppo prematura Del capitolo 3 Potrebbe anche sbagliarsi Su questo punto Quindi Vi ricordate che lui diceva Nel capitolo 3 Ci sarà un altro redesign Della mappa Proprio come è successo Nel capitolo 2 Poi Lui ha parlato Della regina di Cubi Che ancora ovviamente Noi nella stagione 7 Non conoscevamo E ha parlato Della regina Appunto Che avrà poi Un ruolo Successivamente La vedremo Nel capitolo 3 Quindi sarà Approfondita meglio Nel capitolo 3 Poi Ha anche detto Riguardo i 7 Che la loro posizione Tutti Un po' I loro Diciamo Segreti Comunque Conosceremo Un po' Di più L'aveva detto Nel capitolo 3 Ha menzionato Troppe volte Questo capitolo 3 Ai tempi Durante la stagione 7 Capitolo 2 Quasi nessuno Gli dava retta Perché ovviamente Non se ne parlava molto E ai tempi Era quasi impensabile Provare a parlare Di capitolo 3 Adesso un po' Diciamo Di dati Supposizioni Le possiamo fare Ma non possiamo Sempre confermare Il tutto Comunque Ai tempi Non potevamo fare Queste speculazioni E teorie Adesso invece Che sta letteralmente Esplodendo il web Per sto benedetto Capitolo 3 E tra l'altro Come vi dicevo Abbiamo un po' Di prove Stavolta che provino Effettivamente Che potrebbe esserci Un cambio mappa Ci può stare Quindi Come vi dicevo Lui aveva parlato Di evento di Rana Grande Aveva parlato Di quello Dei cubi Delle cose E sono arrivate Tutte in gioco Perché dovrebbe fallare Nel capitolo 3 Lui ha parlato Secondo me In maniera troppo prematura Del capitolo 3 Ok magari Poteva azzeccare Il fatto che Il capitolo 3 Avrà un redesign Della mappa Ma questo è abbastanza scontato Anche perché Ovviamente Ogni capitolo è normale Che ha Un redesign Della mappa Cioè alla fine Non è difficile Da comprendere Però comunque Lui ce l'ha detto Quindi non è Allo stesso punto Una cosa così scontata E poi Come vi dicevo Ci ha parlato Quindi del futuro Della regina Della regina Dei cubi E dei sette Cosa non Non da sottovalutare Perché i sette E la regina Dei cubi Sono dei personaggi Abbastanza importanti Per la storyline Abbiamo visto E tra l'altro Sono dei puntini In sospeso Ancora Dal capitolo 1 Perché noi La regina La stiamo vedendo Solo adesso Ma realmente A quanto va La regina C'è sempre stata E ha controllato A quanto pare Penso Sono solo teorie Comunque Ho avuto a che fare Sempre con Kevin Nel 2018 Quindi il primo cubo Viola che è apparsi In mappa Adesso con il suo ritorno Sappiamo Abbiamo capito bene Che alla fine Era tutto sotto Il suo controllo Quindi banalmente L'avremmo vista Anche nel capitolo 1 Ma ancora Non lo sapevamo Mentre I sette Appunto Sono apparsi Per la prima volta Il visitatore È apparso per la prima volta Grazie alla cometa A Dusty Depot Durante Il capitolo 1 Stagione 4 E poi Tra l'altro La season successiva C'era il cubo Quindi Pensate un po' Cioè nella season 5 Poi è apparsi Il cubo Invece Per la season 6 Hanno direttamente Proprio gli hanno Dedicato direttamente Una season a lui Quindi questi passaggi Sono molto interessanti Si collegano molti fili Anche perché Ci sono troppe cose In sospeso Dal capitolo 1 E che magari Possono darci Una risposta subito Comunque In definitiva Quale cosa Vorrei dire io Ovvero Che questo qua Sta dicendo tante cose E sta parlando In maniera prematura Del gioco Ed è il capitolo 3 Ma perché Non parlavo Magari della season 10 Della season 9 Un esempio Un esempio banale Perché ha parlato Poi di capitolo 3 Cioè perché Se è fermata i cubi E la regina Ok E poi dice Ah va bene Il capitolo 3 Successerà questo E la regina Avrà un ruolo Nel capitolo 3 Comunque sarà approfondita I set saranno approfonditi Però parla del capitolo 3 Ma in season 9 In season 8 In season 9 In season 10 Cosa succederà? Cioè Sono due stagioni Non è che sono le stagioni Che vi posso dire Di Crash Royale Che durano un mese Nulla togliendo Il Crash Royale È per fare un paragone Quindi Diciamo che Le season di Fortnite Molto spesso Sappiamo appunto Dal video di ieri Che hanno una certa lunghezza All'interno Devono essere Devono avere un contenuto Devono avere dei contenuti Durante appunto Tutti i giorni Della season Devono avere qualcosa Quindi A parer mio Questo potrebbe essere Un altro punto A favore per Avere il capitolo 3 Tra l'altro Ritornando sempre Al discorso di Cypher PK Diciamo che Lui sta facendo Un po' troppi video Stavolta Del capitolo 3 Sta facendo Un sacco Un sacco Un sacco Di video Vi ricordo Che lui è molto Diciamo affiatato Con Epic Games E' molto Diciamo Culo e cammincia Con Epic Games Quindi Secondo me Qualcosa Lui la sa Ci sta Mezzo Trollando Magari Magari la gente Pensa Ci starà Trollando Sta dicendo Troppe cose Sul capitolo 3 Magari lui Capisce questa cosa Dice Tanto non mi crederà Nessuno Per il capitolo 3 E magari poi alla fine Si rivedono cose simili Però Lui non è che sta Dando leaks O grandissimi spoiler Lui ci sta dicendo Di guardare Nei trailer Nelle cose Per farci C'è pari di più E quindi Questo è un altro Punto a favore suo Che ci fa capire Che lui ci vuole far capire Secondo me Che lui sa tutto Probabilmente Sa parte delle cose Però appunto Ci sta facendo fare Questi piccoli giochetti A padre mio Poi non ne ho Completamente idea Sapete Le idee sono sempre Idee E speculazioni Che sono diverse Da ogni individuo Un'altra cosa Più importante Di cui volevo parlarvi E anche il banner Di Donald Mustard E al solito Sembra di varie cose Ne abbiamo parlato Però per fare un riassunto Generale Diciamo di tutto quello Perché se devo dire Che cosa ne penso Devo anche andare A riprendermi I vecchi video Che ho fatto E comunque Già mettere il punto zero Un'altra cosa È molto significativa Perché ogni volta Donald Mustard Mette il punto zero Quando succede qualcosa Di importante Ed inizia una specie Di evento finale In realtà zero Non sappiamo Quante volte Ormai l'abbia messa Sta cosa Tra l'altro Riproporre il punto zero Non è stata una cosa Stupita Da Donald Mustard Perché vi ricordo Tra l'altro C'è anche come miniatura Enorme Del mio canale In un mio video Del canale Dell'NPC Appunto Ve ne parlo Da ormai Inizio season Praticamente Del provabile Ritorno Del punto zero Appunto L'NPC L'assessina dei cubi Ci dice appunto Di visitare Il punto zero Non più La convergenza Perché in teoria Il punto zero Dovrebbe essere Sempre al centro Noi invece Lo vediamo Appunto Nel banner Di Donald Mustard Un po' Sempre distrutto Stupor il punto zero Non ne ha pace E tra l'altro Un po' più esposto Cioè Non è dentro Comunque contenuto Magari Forse lo stanno Buttando di nuovo fuori Per usare il punto zero Per sconfiggere Il gene dei cubi Non ne ho idea Comunque potrebbe esserci Il ritorno del punto zero Un'altra cosa importante È che il punto zero Dopo che torna Dopo due season Sì all'inciso No neanche Dopo tre season Perché season 6 Non l'abbiamo visto L'abbiamo visto chiuso Season 7 Non l'abbiamo visto Season 8 ancora Non l'abbiamo visto Quindi al momento Sono tre stagioni Che non lo vediamo Quindi interessante No? E secondo me Vederlo per l'ultima volta Che combina cose Con la realtà Poi potrebbe riportare Di nuovo Al mescolamento Della mappa E quindi a cambiare Di nuovo mappa Se adesso fanno vedere Di nuovo il punto zero Tra l'altro Non l'abbiamo visto Ancora in game Non sappiamo niente Però l'ho fatto vedere Da Old Master E questo è un punto in più Per far tornare di nuovo Il punto zero Diciamo che il punto zero Torna soltanto nei casi Un po' più seri No? Eccetto appunto La stagione 5 Che secondo me Era un modo Soltanto per sbloccare Un po' la storyline No? E far iniziare Qualcosa di diverso Perché il punto zero Vi ricordo che era uscito Sì per colpa di Galactus Ma poi Diciamo Abbiamo aperto la strada All'ordine immaginario Quindi noi l'abbiamo visto Per la prima volta Nella stagione 5 L'ordine immaginario Cioè poi L'avremmo visto Anche nel capitolo 1 Ma ancora non lo sapevamo Vabbè Lasciando stare quello In teoria E Vi ricordo che Donald Master Ci aveva fatto Un mezzo spoiler Su singolarità Ci aveva detto Ah uno dei tanti personaggi Cioè uno dei personaggi Con Con tanti nomi Ma ve lo conoscete Come il nome di Di singolarità Quindi ci sono Tanti pezzettini Che forse Pieno piano Si sta andando a comporre E stanno avendo Una logica A parer mio Comunque A parte Come vi dicevo La stagione 5 Capitolo 2 Dove serviva il punto 0 Un po' per sbloccare La storyline Perché era rimasta Un po' congelata Dalla season 1 Alla season 4 Capitolo 2 Dalla season 4 Infatti Dalla fine Saison 4 Poi un po' Si sono sbloccate Di nuovo le cose Comunque Stavolta Stavolta Ritornerà Ma secondo me Farà come in season 10 In season 10 Vi ricordo che è apparso Verso la fine della season 9 E poi Ha combinato casino Con il meteorite E le cose Durante la stagione 10 E poi C'è stato il capitolo 2 E vi ricordo Che anche Non necessariamente Il The Epic Games Deve seguire Il filone Logico Diciamo Delle 10 stagioni Non potrebbe anche interropperla Fino a proprio conto La fine della stagione 5 Non è che c'è una legge Una cosa Che dice Che non lo può fare Quindi Secondo me È anche questo E tra l'altro Comunque A prescindere Secondo me Dorebbero avere Già la mappa pronta Comunque Perché mancano Due stagioni In 4 mesi Non è Penso che fanno Gli ultimi ritocchini Se dovesse essere La season 9 La season 10 Mentre se dovesse Mancare un mese Come si dice E Penso già Ce l'abbiano Bella e pronta Sta bene detta mappa No Però non lo so Perché di solito Vedete che Verso la fine Della season 10 Avevano spoilerato Qualche grafica Del capitolo 2 Vi ricordate Avevamo visto Qualche skin Del pass battaglia L'avevamo vista Di roba Invece In questa stagione Non stiamo Al momento Vedendo niente Forse perché È troppo presto Forse quando fanno Gli spoiler Sanno quando farli Probabilmente Già ce l'hanno pronti Non ne ho Polesemente idea Però Io vi raccomando Che in questo periodo Di stare attenti Perché magari Ci sarà qualcuno Che crea qualche concept E poi la spaccia Per cosa vera Quindi non vi fidate Troppo A meno che Non la faccia Ipex Quello è un altro discorso Magari poi ci potrebbe Trollare Però In realmente Ci possiamo fidare Proprio di lui Ci possiamo fidare Comunque ragazzi Quindi queste cose Sono un po' Le mie considerazioni Per cui Per me Si può fare Si Ci potrebbe essere Tranquillamente Il capitolo 3 Però Vi dico che non sono Ovviamente cose ufficiali Ma mi sto basando Su cose che abbiamo visto Per ora Quindi gli X Tutto quello che ha detto Appunto Cypher E quello che abbiamo visto Adorald Maslow Come avete visto Vi ho argomentato Una risposta In base alle cose Che abbiamo visto E non Ah che bello il capitolo 3 Lo vorrei No non mi sono fatto Condizionare da questa scelta Vi sto Vi ho elencato Appunto i motivi Per cui secondo me Ci sarà Quindi potrebbe essere Una cosa interessante Ovviamente Come vi dico in ogni video Prendete tutto Con le pinze Perché potrebbe dimostrarsi Farso Tutti i leaks Che vi mostro Soprattutto Tutte le cose che vi dico Sono solo teorie Non sono cose ufficiali Fin quando ragazzi Non annuncia Epic Games Non sarà mai ufficiale quella cosa Comunque Ovviamente Scrivetemi qua sotto In descrizione Cioè scusate Nei commenti Dico sempre in descrizione Nei commenti Che cosa ne pensate voi Perché secondo voi Il capitolo 3 ci sarà Perché non ci sarà Perché secondo voi Ci sarà la season 9 Perché non ci sarà la season 9 Insomma Argomentatevi una risposta Perché sono curioso Di sentire anche altri pareri Perché io per ora Mi sto chiedendo Nel mio parere No però Mi piacerebbe anche Capire il parere degli altri Speriamo niente Che questo video vi sia piaciuto E niente Ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti